Mattia 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 e l'ultimo. Dai, da! Dai, da! Dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, Mattia! Dai, Mattia! Oh, un'altra parte! Oh, un'altra parte! Oh, un'altra parte! Tu sei la parte? Oh! Un'altra parte! primo classificato Gencidievo Secondo classificato Costantini Filippo Anche il quattore Primo classificato Gencidievo Bello Dasi Gencidievo alla prevenzione e alla cortesia E' a sti te mani al video E' a sti te mani al video E' a sti te mani al video Senti Dove è coludo Sto rimando E' a sti E' a sti E' a sti E' a sti Bello Dasi Da bene così Dasi Bravo Davide la categoria andiamo a portarci per dire ma la città è vera non solo quello che deve fare ma la città è vera se il città è un minuto che fai a parte di il secondo la seconda è la seconda 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 per dietro la quignia la volantica aiutati bellio da te bravo Mattia vai Mattia